Ciao ragazzi, è settembre, tempo di nuovi inizi, dopo quasi tre mesi di vacanze estive si ritorna alla vita quotidiana, si ritorna a scuola, si ritorna al gruppo giovanissimi, ricomincia il cammino di AC. Questo nostro vuole essere semplicemente un video di saluto e un in bocca al lupo per questo cammino che inizia, con l'agurio che possa essere un cammino di nuove scoperte, di nuovi inizi da vedere con gioia, con entusiasmo e vita sempre piena. E dopo il tempo estivo che sicuramente avrete vissuto facendo esperienze molto diverse rispetto a quelle quotidiane che fate durante l'anno, è tempo di riscoprire la bellezza del tempo quotidiano. Di ogni minuto che passate, di ogni esperienza che fate, delle relazioni che degli amici, delle persone che rincontrerete dopo questo periodo di vacanza. E allora, il nostro regalo per il vostro nuovo inizio è anche il fatto che adesso è davvero ufficiale, da ora in poi, i graffiti potrà essere a vostra disposizione sempre da tutti i telefonini, gli smartphone, il computer e tutti gli strumenti che avete a portata di mano. E' il nostro modo per essere ancora un pochino più vicini a voi. E allora davvero godetevi questo nuovo inizio, godetevi ogni istante di questo nuovo tempo che si sta aprendo e vi mandiamo un grossissimo abbraccio. Ciao!